Musica Sarà presa lunedì la decisione per l'espatrio delle salme della strage dei migranti sulle coste calabresi. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha individuato 164 persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Il Parco Hotel Mirabò si è trasformato in un set cinematografico per la realizzazione del film Runner. Da nove anni gira l'Europa in bici e è arrivato anche nella nostra regione. Ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV. Sono tra 27 e 47 le persone ancora disperse nel naufragio avvenuto domenica a Steccato di Cutro. Intanto il Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Crotoni ha rinviato la decisione per l'espatrio delle salme di alcune delle vittime del naufragio. È ancora in corso una ricognizione per i nullaosti e soprattutto serve coordinare le procedure con la farnesina per le vittime affigane, che sono la maggior parte, che dovranno essere rimpatriate. La Polizia Scientifica di Crotone ha identificato fino a ora 56 delle 68 salme. Il Comune di Crotone, ascoltata anche l'azienda sanitaria, ha dato la disponibilità a tenere le salme nel Palamilone, finché non saranno espatriate o tumulate. È emersa anche la disponibilità del Governo di farsi carico dei costi. Finora al settore servizi sociali di Crotone sono arrivate sette richieste per il trasferimento delle salme, mentre 15 sono state raccolte dalle associazioni del terzo settore che si occupano di immigrazione. Per quanto riguarda le salme ancora non identificate, il Comune di Crotone ha messo a disposizione 8 loculi, mentre nei 27 comuni della provincia ci sono 56 loculi disponibili. Tanti privati hanno messo a disposizione anche le loro cappelle. Una volta ottenuti nulla osta verranno tumulate subito le bare dei minori senza nome. La salma di una bambina non identificata verrà sepolta nel Comune di Catanzaro, come era stato chiesto dal Sindaco Nicola Fiorita. Cambiamo argomento. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha individuato 164 persone che indebitamente hanno percepito, fornendo delle false attestazioni, il reddito di cittadinanza. I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, nell'ambito della più generale azione di presidio nella vigilanza del settore delle prestazioni sociali agevolate, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal Procuratore Emanuele Crescenti, hanno approfondito le posizioni di 173 soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, in gran parte extracomunitari, domiciliati principalmente nell'area tra i comuni di Rosarno e San Ferdinando. L'indagine condotta dal gruppo di Gioia Tauro ha consentito di individuare 164 soggetti di nazionalità straniera che, attestando falsamente di risiedere nel territorio nazionale da almeno 10 anni, avrebbero indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. Attraverso le false attestazioni, i soggetti fraudolentemente ammessi al beneficio hanno indebitamente percepito spettanze per oltre 263 mila euro. L'attività posta in essere dalla Guardia di Finanza sulla vasta platea di richiedenti ha permesso di interrompere le procedure di assegnazione nel contributo proprio per oltre un milione di euro, bloccati preventivamente e quindi non percepiti, segnalando contestualmente alla sede IMSS, completamente territorialmente, ai fini della revoca del beneficio. I carabinieri del nucleo di Cinofili di Vibo Valencia hanno arrestato un ragazzo di giri falco di 25 anni. Il giovane a seguito di controllo nella propria abitazione è stato trovato in possesso di 20 grammi di magliana, già suddivise in dosi confezionate artigianalmente, 43 grammi di ascici e vario materiale per il confezionamento. Il controllo accurato e meticoloso dei militari ha permesso di rinvenire anche a un proiettile calibro 7,65 detenuto illegalmente. È scattato quindi l'arresto in flagranza di reato con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché detenzione abusiva di armi e munizionamento. Il giovane è stato ristretto agli arresti domiciliari mentre la sostanza stupefacente e il proiettile sono stati sequestrati. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare che era stata eseguita il 26 gennaio scorso a carico dell'ex assessore regionale della Calabria, Francesco Antonio Stillitani, di 70 anni, nell'ambito dell'operazione Olimpo, coordinata dalla DDA di Catanzaro. Analoga decisione è stata presa dai giudici nei confronti del fratello di Francesco Antonio, Emanuele Stillitani, di 68 anni, coinvolto anche lui nella stessa inchiesta. L'annullamento dei provvedimenti restrittivi emessi a carico dei fratelli Stillitani è stato deciso dai giudici del Riesame in accoglimento dell'istanza presentata dai difensori. Emanuele Stillitani è stato scarcerato mentre Francesco Stillitani, che non è stato scaricato l'arresto, aveva avuto una complicanza cardiaca e per questo è stato operato nel policlinico di Catanzaro e ricoverato in una casa di cura privata. L'inchiesto Olimpo riguardava i presunti interessi delle cosche di Indrangheta del Vibonese nel settore turistico. Tra le persone coinvolte è anche l'ex dirigente del Dipartimento della Regione Calabria, Pasquale Anastasi, di 72 anni, al quale è stato annullato l'arresto dallo stesso Tribunale del Riesame. Cambiamo ora argomento, sono quattro i comuni calabresi in Montepaone, nella provincia di Catanzaro, Tropea, nel Vibonese, Diamante e Tortora, nel Cosentino, che hanno conquistato l'ambito riconoscimento di comune Plastic Free 2023. Lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell'ente e collaborazione con Plastic Free Ollus, l'associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica. Sono questi i cinque pilasti che rendono i comuni Plastic Free. Tra le 360 città italiane candidate per il 2023, solo 68 hanno superato la valutazione del Comitato Interno della Ollus, conquistando l'ambito riconoscimento che ha ottenuto l'avallo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. A ricevere il trofeo a forma di tartaruga e l'attestato di virtuosità secondo il proprio livello di impegno, ci saranno anche quattro comuni calabresi. Parliamo di Montepaone, in provincia di Catanzaro, Tropea, in provincia di Vibbo, Diamante e Tortora, in provincia di Cosenza. Per questi ultimi si tratta di una riconferma, con il patrocinio del Comune di Bologna, che è la città ospitante del Plastic Free, del Parlamento Europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, la cerimonia ufficiale di premiazione si terrà il prossimo 11 marzo presso Palazzo Re Enzo, nel capoluogo emiliano. Dal 2019 ad oggi, nonostante la pandemia, l'associazione Plastic Free racconta la sostenibilità ambientale attraverso la concretezza dei risultati. Circa 3 milioni di chili di plastiche e altri rifiuti inquinanti rimossi dall'ambiente. Oltre 110 mila studenti sensibilizzati in quasi 1.400 scuole italiane è salvato 160 tartarughe dalla morte certa. La Ollus supporta anche enti ed aziende nella transizione ecologica. L'evento di premiazione dei Comuni Plastic Free sarà inoltre anche un momento di grandi riflessioni sulle tematiche ambientali. In collaborazione con il Festival del Sarà, insieme agli illustri ospiti e opinion leader del settore, si terranno anche due dibattiti, la transizione sostenibile e le scelte di sostenibilità, imprese, modelli e comunità. L'hotel Mirabo di Gasperina trasformato in un set cinematografico per la realizzazione del film Runner, un action thriller presentato nel corso di una conferenza stampa. L'aspetto più interessante da evidenziare a proposito delle riprese del film Runner è il fatto di aver trovato proprio in Calabria il posto ideale dove realizzare una produzione cinematografica di questo genere. L'hotel Mirabo e la città di Gasperina hanno confermato che in Calabria è possibile realizzare grandi produzioni che si proiettano a livello internazionale. Una location come questa per un film d'azione, come vi siete trovati? Molto bene perché noi avevamo delle caratteristiche molto precise per questo film. Ci serviva un albergo molto grande dove poter far correre la nostra protagonista in luoghi sempre diversi per 90 minuti. La città e l'albergo ci hanno chiamato e ospitato molto bene hanno risposto molto bene e ancora qualche giorno e dovremo lasciare questo posto che ci dispiacerà molto. Dormiremo un po' di più però ci dispiacerà molto lasciarlo. Ci siamo ovviamente trovati molto bene qui. Il Gasperina attraverso il Mirabo si trasforma in set cinematografico. Sì, è una bella esperienza non è una novità perché il Mirabo ha ospitato altri film ma questo si gira proprio all'interno del Mirabo sul territorio comunale è un qualcosa di veramente positivo un biglietto di visita positivo per la nostra comunità per il nostro territorio. Usciamo fuori dagli stereotipi che la Calabria debba raccontare sempre notizie tristi negative questo è un qualcosa di positivo il senso di ospitalità è un qualcosa di positivo che la Calabria ha sempre messo in campo anche questa volta l'ha fatto. Gasperina è contenta di tutto ciò. La Calabria che adesso si apre a tantissimi generi nazionali e internazionali e non più legata ai soliti cliché che abbiamo visto finora sebbene si sono avvicinati dei film d'autore questo è un film molto importante ha una storia di grande attualità che ha delle reminiscenze su un filone diciamo artistico cinematografico della fine degli anni 80 e primi anni 90 come diceva il regista il popissimo Barnaba di Die Hard oppure delle varie trappole di cristallo trappole in fondo al mare è un po' un thriller un po' come posso dire ancestrale e claustrofobico però insomma un po' una runner che ci terrà col feto sospeso fino alla fine del film. E la conferma che Calabria Film Commission si sta apprendo ai diversi generi cinematografici? Assolutamente era questo appunto la mia finalità creare dei diversi film di diversi filone cinematografici che non devono essere per forza dei film diciamo etichettati con i soliti cresciti che abbiamo visto e soprattutto insomma una Calabria dove far venire fuori il vero lato della Calabria cioè far venire fuori il lato culturale della Calabria quindi insomma non solo bellezza paesaggistica ma anche insomma la valorizzazione di tutto ciò che la Calabria vanta da tantissimi anni. E la città di Gasperina e l'hotel Mirabò hanno rappresentato il valore aggiunto di questa produzione cinematografica. grazie alla disponibilità e al profondo senso di ospitalità che ha caratterizzato il periodo di permanenza dell'equipe che ha lavorato alle riprese del film. L'hotel Mirabò di Gasperina trasformato in un set cinematografico per la realizzazione del film Runner un action thriller con protagonista Lisa una ragazza che sogna il mondo del cinema da quando era bambina. Un film adrenalinico interamente ambientato in questo albergo dalla vista straordinaria sulla costa ionica calabrese ed in questi giorni isolato dal mondo per poter narrare questa storia in tempo reale. A raccontare l'esperienza di questi giorni il regista Nicola Barnaba i protagonisti Matilde Gioli e Francesco Montanari il produttore Roberto Cipullo ed il resto dello staff e presente anche il commissario straordinario della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande un film d'azione ambientato al giorno d'oggi con una scansione ritmica che terrà lo spettatore incollato alla sedia. Lo schema è quello di un film che racconta di un film ma recuperando un genere che sembrava ormai finito. L'albero del cinema è rischiare inventare fare però poi un po' come tutti i bambini che amano ripetersi sentirsi ripetere sempre la stessa favola vogliamo un po' rivivere le sensazioni avute con quei film che ci hanno fatti sognare da ragazzini quindi tutta l'idea nasce un po' da questo poter ricreare questa sensazione questo divertimento come si godeva da ragazzini nei cinema quando si poteva entrare vedere il film tre volte di seguito quando ti piaceva insomma Una runner e protagonista femminile in un ruolo che abitualmente vediamo i maschietti Sì mi rendo conto che tanti eroi alla fine sono uomini e quindi mi piace l'idea di interpretare un'eroina che attraverso l'astuzia e la prestanza fisica riesce in qualche modo a venire a capo di una situazione molto complessa molto inquietante come quella che racconta questo film e quindi niente ho voluto solo manifestare il mio entusiasmo per anche perché quando si riceve un ruolo da quando si si viene contattati per un ruolo da protagonista assoluto di un film a livello proprio anche di orgoglio come attore insomma a me la seconda volta che succede non è così scontato ed è una bella una bella cosa è un'esperienza anche in un genere diverso del solito sì esatto io sono poi una fan degli action inevitabilmente ho una grande passione per tutto un filone americano alla Guy Ritchie che però sono sicura che insomma sia di ispirazione ma noi abbiamo poi una nostra cifra un nostro sapore italiano che spero che in questo film verrà fuori e non abbiamo nulla da invidiare a nessuno rincorrere una una protagonista di questo genere come? è piacevole piacevole come ho detto prima poteva andarmi peggio no no è divertente è divertente sì è divertente nel senso diciamo totale della parola perché perché sì il film si chiama Runner e quindi come si dice mai mai titolo fu più come dire azzeccato azzeccato insomma si corre si corre io fortunatamente a differenza sua che corre da sola io ho una squadra che corre più per me anche io a un certo punto la trovo solo quando la devo trovare e poi lei scappa sempre però diciamo è proprio il classico esempio quando penso a Bosco in questa situazione il personaggio che faccio si chiama Bosco è quando tu magari discuti e l'interlocutore con cui discuti a un certo punto ti risponde oggi ti ha detto male hai beccato la persona sbagliata ecco esatto questo succede a Bosco sottovaluta Matilde sottovaluta sottovaluta e sottovalutare è un errore fatale di solito il cattivo è un antipatico in questo caso come è stato costruito? ma sì il cattivo è antipatico però nella sua totalità è talmente antipatico che fa il giro che alla fine ti sta simpatico perché non è un po' tiepido quello stronzetto no è proprio un integralista diciamo un talebano della cattiveria dell'antipatia e quindi alla fine un po' un personaggio letterario un personaggio letterario cattivissimo che a un certo punto vabbè gli vuoi bene anche perché senza lui non ci sarebbe il buono l'istituto Panella Vallauri di Reggio Calabria e la Proloco Cardeto ETS hanno siglato due convenzioni per lo svolgimento di attività alternanza scuola-lavoro con l'obiettivo di realizzare due importanti progetti Ople Orme e sul filo della memoria ascoltiamo di cosa si tratta una sinergia che nasce tra le Proloco e la vostra scuola Assolutamente crediamo fortemente nell'alleanza tra la scuola ed il territorio soprattutto per intercettare e coltivare le vocazioni dei nostri studenti ma in relazione alle vocazioni alla vocazione del nostro territorio è una sfida per noi particolarmente significativa anche coltivare e prendersi cura di un'umanitas di quella umanitas che è da senso e significato a qualsiasi scelta e anche a qualsiasi spinta innovativa che nasce sicuramente all'interno della scuola e che viene anche raccolta dal sistema produttivo dei nostri tempi una sinergia che nasce tra voi e le prologo si le prologo come diciamo sempre le prologo è un modo diverso di fare prologo quindi non più solo manifestazioni solo sacre ma anche cultura tradizioni e soprattutto valorizzazione del territorio il nostro obiettivo appunto qui intieme alla scuola di realizzare due nuovi progetti uno riguarda i toponomi del nostro paese e un altro riguarda i figli della memoria appunto ricordare tutte le carte che sono chiuse e che persone sono trasferite per un lavoro e quindi vogliamo far ricordare a loro che il paese è ancora vivo Alberto da nove anni gira in bici l'Europa Graziano Ottomarchio lo ha incontrato a Bova nel Regino Alberto arriva dalla Spagna nove anni che sei con la bici stai girando un po' l'Europa oggi ti trovi nella Ionica della Calabria e qui siamo nel comune di Bova ecco raccontici un po' la tua scelta di vita se possiamo dire o una scelta tua di girare l'Europa in bici questo per me è molto semplice mi piace la bicicletta mi piace viagliare nove anni fa mi è successo un successo familiare quindi ho deciso cominciare a pedalare cominciare a pedalare facendo il cammino di Santiago di Compostela e non mi è fermato mai fino adesso che continuo pedalando quali sono le difficoltà che trovi durante i tuoi percorsi lo più complicato a volte è trovare un posto bello e tranquillo per mettere la tenda del Campello questo è lo più complicato qui in Italia avere una altra complicazione che precisamente è il tráfico la strada vedo che non c'è concienza non c'è rispetto per il ciclista niente niente rispetto per il ciclista niente rispetto niente parliamo della nostra Calabria cosa hai visitato della Calabria hai visto più che altro della Calabria è arrivato a Villa San Giovanni dopo ho fatto il giro della Sicilia e adesso sto facendo il giro della Calabria eccetera Reggio Calabria il paese questo qui è abbandonato Pento Dattilo Pento Dattilo bellissimo la costa Ionica un paesaggio bellissimo se bebe e se mangia molto bene come sono i calabresi hai tornato a l'ospitalità si ferma una nuova strada molto affettuoso molto affettuoso molto molto vicino molto cercano mi piace mi piace l'italiano in generale lo considero buona persona sei in compagnia però di Brujo super è mio cane lo ho preso in adopzione un anno fa che viaggia con me l'ho preso in adopzione le ho comprato il remolche così lo metto nell'interno e viaggia con segurità a volte a volte nel remolche e a volte corre insieme a me è un cane deve correr a volte corre insieme a me quanti chilometri hai fatto fino a adesso esattamente non lo so perché casualmente l'orologio della bicicleta sta rotto e io penso che minimo 70.000 chilometri minimo minimo 70.000 70.000 con segurità sì sicuramente un po' più dopo che finisce l'Europa qual è l'altro obiettivo che deve raggiungere mi piacerebbe fermarmi qui in Italia vivere due anni in Napoli imparare l'italiano correttamente e vivere in Napoli in Napoli dopo dopo io ho in la testa un nuovo progetto e è un nuovo progetto che vediamo 42 Don Giovanni Zampaglione parroco di Masella di Montebello Ioni con il regino ha organizzato un programma con una serie di eventi per raggiungere i ragazzi e con loro anche le loro famiglie il tempo della fede della preghiera si fa più vivo che mai date le sofferenze che l'umanità sta patendo nelle parole di Don Giovanni Zampaglione parroco di Masella risalta quella volontà di non arrendersi di aiutare più bisognosi soprattutto nella ricerca di uno spunto di vera unione e cooperazione tra le parti la solidarietà cristiana emerge chiaramente quindi dal discorso di presentazione degli eventi organizzati dalla pastorale per il tempo libero il turismo e lo sport Don Giovanni una serie di iniziative molto importanti dalla cultura allo sport ma soprattutto con la presenza della preghiera e della fede dice giusto ecco come ufficio di sport turismo e tempo libero stiamo lavorando stiamo lavorando assieme agli altri membri a 360 gradi su ogni ambito ambito sportivo ambito del tempo libero ambito della cultura ecco ci stiamo dando da fare perché da quando abbiamo portato il nostro programma al nostro arcivescovo subito ci siamo messi in campo anche noi e stiamo facendo un bel gioco di squadra ecco ci stiamo dando da fare in sinergia questo lo tendo a sottolineare stiamo lavorando in sinergia con altri uffici ecco con altri uffici della diocesi e cerchiamo di interagire anche con i nienti presenti sul territorio della nostra diocesi si parte col concorso fotografico scatta in parrocchia organizzato dall'ufficio sport turismo e tempo libero e dall'ufficio pastorale giovanile della nostra arci di ocesi diretto da don michele d'agostino abbiamo fatto questo concorso organizzato insieme questo concorso dove l'obiettivo è di far crescere il senso di appartenenza alle parrocchie soprattutto quest'anno alla luce del sinodo io anzitutto sto incontrando in questi giorni tantissime istituzioni tantissimi personaggi tantissimi uffici però vorrei che ci fosse questa rete ecco il mio obiettivo è fare rete tra le associazioni gli enti e gli uffici in maniera da lavorare bene insieme perché è importante lavorare assieme non si può lavorare da soli o ognuno lavora per conto proprio ecco se si vuole raggiungere un obiettivo bisogna fare come si suol dire un termine calcistico gioco di squadra perché da soli non si va da nessuna parte ecco perché con l'ufficio stiamo facendo rete stiamo lavorando in seregia con un altro ufficio anche perché ce l'ha detto il nostro archivesco il fatto di aver fatto questo scatto in parrocchia con l'ufficio di pastorale giovanile è già un primo passo ecco ci saranno tantissimi altri passi e noi vogliamo lavorare insieme insieme CSI ASC CONI insieme insieme perché insieme si raggiungono gli obiettivi prefissati siamo giunti all'ultima notizia da questa domenica a tutte le prime domeniche del mese di marzo Vibo Valencia offre una serie di iniziative per visitare i tanti beni archeologici storici artistici presenti in città la città di Vibo Valencia aderisce all'iniziativa ministeriale dei musei gratuiti la prima domenica di ogni mese e va oltre rinancia è stato presentato infatti il progetto Domenica in città un'iniziativa studiata dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco e la Commercio di Vibo Valencia in modo da poter offrire a quanti verranno in città la prima domenica di ogni mese l'occasione di visitare gli importanti siti archeologici storici artistici sotto l'attenta guida dell'archeologa Mariangela Preta oltre alla doverosa visita al museo statale che custodisce la straordinaria laminetta orfica eccezionale reperto unico al mondo si comincia questa domenica e sarà l'occasione per inaugurare ufficialmente il nuovo servizio di bike sharing altra novità di assoluto valore che caratterizza Vibo Valencia appuntamento a partire dalle ore 10 in piazza Sede Luca dove è allestita una delle ciclostazioni per iniziare il tour partendo dal parco archeologico di Sant'Aloe questa amministrazione si è posta tra i suoi obiettivi fondamentali proprio quello della valorizzazione ma soprattutto della fruizione dello straordinario patrimonio storico artistico architettonico di cui gode la città già prima dai primi mesi della mia attività amministrativa avevamo iniziato ad organizzare queste passeggiate archeologiche alla riscoperta delle nostre bellezze il covid ci ha fermato ora le riprendiamo in maniera anche più impegnata in maniera più strutturata anche perché abbiamo un servizio di bike sharing che per questa circostanza sarà messo a disposizione gratuitamente dei cittadini e abbiamo dei punti di raccolta ben precisi che di mese in mese si modificheranno proprio perché vogliamo estenderlo a tutti i siti della città del resto va ricordato che Vibo Valencia è la città unica nel suo genere nella quale esistono ben sette siti archeologici all'interno del circuito cittadino in più la collaborazione con le associazioni di categoria e la Proloco consentirà anche una vivacità la domenica di questa città con l'apertura di bar e ristoranti l'obiettivo ovviamente non può che essere anche questo del coinvolgimento delle attività produttive intanto per offrire un servizio ai turisti che so essere già numerosi che vorranno partecipare a questa visita guidata dall'archeologa Mariangela Preta ma poi anche per consentire alle stesse attività produttive di rimettersi in moto avremo i bar e i ristoranti che saranno aperti e ci auguriamo perché no che nel prosieguo anche altre attività commerciali potranno aggiungersi con la loro apertura in questo percorso che si concluderà sempre con una passeggiata all'interno del centro storico termina qui il nostro notiziario spazio ora le notizie dall'Italia e dal mondo grazie per aver seguito il nostro TG trovato morto questa mattina in uno degli uffici del Senato il senatore del PD Bruno Astorre il parlamentare romano si sarebbe lanciato dalla finestra del suo ufficio al quarto piano di Palazzo Cenci Astorre avrebbe compiuto 60 anni l'11 marzo prossimo la notizia ha colto tutti di sorpresa l'ipotesi che sembra prevalere è quella di un gesto volontario senatore dal 2013 Astorre era segretario regionale del PD nel Lazio dal dicembre del 2018 la procura di Roma ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio arrestata dai carabinieri del ROS con l'accusa di associazione mafiosa la sorella del boss Matteo Messina Denaro Rosalia l'inchiesta è stata coordinata dalla procura di Palermo secondo gli inquirenti la donna avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per conto suo la cassa della famiglia e la rete di trasmissione dei pizzini consentendo così al capo mafia di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga latitanza e proprio un appunto dettagliato sulle condizioni di salute di Messina Denaro avrebbe portato alla sua cattura il 16 gennaio scorso a cinque giorni dal drammatico naufragio davanti alla spiaggia di steccato di Cutro nel Crotonese le polemiche sul ritardo dei soccorsi non si fermano mentre il bilancio delle vittime continua a salire finora sono 68 i corpi recuperati secondo il centro di coordinamento dei soccorsi potrebbero esserci ancora tra i 27 e i 47 dispersi intanto oggi a largo di Lampedusa 211 migranti sono stati soccorsi dalla guardia costiera e tratti tutti in salvo mentre tentavano di raggiungere le coste italiane rinviato a data da destinarsi il voto del Consiglio Europeo sul divieto alle auto a benzina e diesel dal 2035 il voto già slittato in precedenza da mercoledì ad oggi si è arenato davanti alla contrarietà fortemente espressa dall'Italia ma anche da Polonia e Bulgaria e negli ultimi giorni dalle perplessità della Germania è un paese in buona salute sul fronte dell'agroalimentare quello che emerge dalla fotografia scattata dal primo rapporto dell'osservatorio agroalimentare presentato a Roma alla presenza del Consiglio Nazionale di oltre 450 delegati del settore alimentare della Willa il primo report dell'osservatorio agroalimentare frutto della collaborazione tra la fondazione Giampiero Sambucini e la fondazione Edison dai dati emerge la grande reattività dell'Italia nell'uscire dalla crisi pandemica con una crescita del PIL che ha sorpreso anche gli analisti un paese in buona salute con un prodotto interno lordo migliore di tantissimi altri un settore alimentare in grande spolvero sono questi i dati più importanti che emergono da questo primo report della fondazione Sambucini della fondazione Edison e ovviamente sono dei dati importanti che vanno però coniugati con un'inflazione che ha eroso il potere d'acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori italiani con un'occupazione che cresce che cresce anche nel settore alimentare ma che comunque mantiene ancora dei connotati di forte precarietà Adesso abbiamo dato il via anche a una newsletter trimestrale questo primo numero ha mostrato in particolare la grande rapidità e reattività dell'Italia nell'uscire dalla crisi pandemica con una crescita del PIL di quasi l'11% negli ultimi due anni che ha sorpreso gli analisti e ha in qualche modo anche spiazzato tutti i catastrofisti i gufi che hanno sempre visto negativo sulla nostra economia in questo contesto un ruolo molto importante è stato giocato proprio dal settore agroalimentare che ha sostenuto la ripresa e anche le esportazioni che hanno superato nel 2022 i 60 miliardi di euro quindi per il settore agroalimentare un bienio molto positivo che ha anche prospettive di continuità nell'anno in corso in Italia ci sono oltre 7 milioni di persone con problemi di udito più di un miliardo e mezzo nel mondo cifra che potrebbe salire a oltre 2 miliardi e mezzo nel 2050 l'organizzazione mondiale della sanità negli ultimi anni ha lanciato un vero e proprio grido d'allarme sulla diffusione dei disturbi uditivi sottolineando più volte l'importanza dell'informazione proprio a questo scopo ogni anno il 3 marzo viene celebrato il World Hearing Day un evento che coinvolge centinaia di paesi in tutto il mondo un udito sano per tutti facciamo in modo che diventi realtà il messaggio dell'edizione 2023 del quale in Italia si è fatta portavoce udito Italia Onlus associazione che da oltre 15 anni è impegnata nella promozione della salute uditiva che ha promosso un evento svoltosi al Ministero della Salute di sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi uditivi il messaggio che quest'anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia per il World Hearing Day è un messaggio molto importante un udito sano per tutti facciamo in modo che diventi realtà e quindi ognuno nel nostro piccolo cerchiamo di fare qualcosa cerchiamo di fare una corretta informazione cerchiamo di proteggere il nostro udito e celebriamo insieme la giornata mondiale dell'udito un'esercizio 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 un'esercizio